eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo su apex legend come sempre vi ricordo di passare in descrizione nel primo commento per passare a visitare tutti i nostri social soprattutto il gruppo di facebook dedicato ad apex legend allora ragazzi oggi un video veramente molto curioso più che altro una guida molto particolare perché in questi giorni molti utenti si sono accorto della presenza di piccoli dinosauri sparsi all'interno della mappa di apex legend dinosauri che abbiamo già visto e come sempre chiamati nel passato nessi nei titoli della respawn entertainment se molti voi se lo ricorderanno anche all'interno di tatanfall erano presenti questi piccoli dinosauri in pietra bene sono presenti anche all'interno della mappa di apex legend vi faccio vedere la mappa che hanno creato su reddit.com dove potete vedere le 10 posizioni dove trovare questi piccoli dinosauri perché sono praticamente 10 nessi sparsi praticamente sulla mappa come vedete questi dovranno essere distrutti in ordine quindi partendo dal numero 1 fino al numero 10 una volta completati e quindi distrutti questi piccoli dinosauri quindi avrete bisogno dei vostri amici quindi ci sarà un bel lavoro da fare ve ne dovrete andare nel punto 10 quindi a distruggere l'ultimo piccolo nessi e una volta fatto questo vi apparirà il mostro di Loch Ness avete capito bene vi faccio vedere un piccolo sunto di una live presa appunto su twitch dall'utente garbage gogmain che con i suoi amici è riuscito a fare questi easter egg una cosa veramente molto ma molto interessante che potrebbe far pensare o alla conclusione di un easter egg che ha messo spot la respawn entertainment oppure magari a un evento in futuro con i dinosauri all'interno di apex legend che potrebbe essere molto ma molto interessante abbiamo notato che anche all'interno della mappa ci sono le ossa di un dinosauro gigante quindi un'altra cosa molto interessante che potrebbe far pensare magari ad un futuro evento e vi ricordo che a marzo inizierà la season 1 con i nuovi contenuti quindi rimanete sintonizzati perché scopriremo bene se questa cosa del nessi e del mostro di Loch Ness sono legati alla season 1 di apex legend qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate se avete già iniziato a fare questi easter egg se avevate trovato prima un piccolo nessi sparso sulla mappa di apex legend e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao